Mini recensione richiesta tramite Patreon da Enrico Finazzi che mi chiede di fare due parole su Melancolia del 2011 del grande Lars von Trier. Melancolia è il film della trilogia della depressione e Lars von Trier infatti è un film di un camera spill, di una tristezza dolentissimo, un film veramente esistenzialista fino all'ultimo secondo. Un film meraviglioso che narra appunto la storia di Justine che subito appena sposata va in depressione e vi è aiutata in questa depressione dalla sorella Claire, Justine e Christine Duss, la sorella Claire e Charlotte Gainsbourg. Intorno a loro gira tutta una famiglia, una serie di personaggi meravigliosi interpretati alla grande da Kiefer Sutter, da Charlotte Ramping, John Arte, Skarsgård figlio e padre, insomma un cast di tutto rispetto per un film fotografato in una maniera meravigliosa e chiaramente dopo Melancolia è dovuta al fatto che appunto di questo pianeta che si sta per appunto a quanto piare schiantare sulla terra. Allora qui siamo di fronte veramente a un Von Trier straordinario, il livello delle sue immagini è eccellente, un lavoro pittorico quasi totale, ogni inquadratura sarebbe veramente da dipingere e mettere in casa, una cosa straordinaria. Gli attori sono a dir poco eccellenti tutti in una parte incredibile, il film poi è dolentissimo, si pone appunto l'idea di portare avanti un'idea di cinema che non piace, che non funziona quasi più, espressionista quasi nella forma, esistenzialista sicuramente nel racconto e appunto questa specie di dramma da camera in cui tutti i personaggi poi confluiscono attraverso una visione particolare appunto del catastrofico, chiamiamolo così questo film, dove il mondo sta appunto per essere distrutto da un pianeta, ma in realtà è la istruzione interna dell'uomo che conta per Von Trier, il resto è un'allegoria appunto della mancata esistenza e della depressione stessa, un film sotto il punto di vista come ho detto visivo, straordinario, musicalmente si usano dei pezzi di musica classica in maniera incredibile anche per narrare la storia, il finale è qualcosa di meraviglioso ed il film si pone come uno dei migliori film degli anni 2000 così come si pone Lars Von Trier come uno dei migliori registri degli ultimi 30-40 anni come ho sempre detto per me, è un genio, il danese in questa produzione danese, svelese e pura italiana tira fuori un altro lato di sé che avevamo già visto in un certo senso nel precedente Antichrist, ma che qui raggiunge livelli se vogliamo diversi, non sposandosi più quasi con un horror diciamo così gotico da foresta, ma spostandosi più con un film catastrofico quasi di fantascienza, in realtà il nostro racconta un'altra volta i mali del mondo e i mali e i dolori appunto della repressione, dell'ansia, della solitudine, delle persone belle, brutte, intelligenti o sceme che siano, quindi un film straordinario questa melancolia che chi non ha visto si deve di morto mettere i ginocchioni sui ceci e fare ammenda e guardarsi almeno 3-4 volte per capire com'è il grande cinema e qual è il cinema che tutti noi vorremmo vedere in sala più spesso, ovvero quella del grandissimo grandissimo Lars von Trier.